Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono code per traffico intenso tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino, e code a tratti tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello, entrambe in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Spostandoci in FIPILI, code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In direzione Firenze, code per un veicolo in avaria tra Montelupo Fiorentino e Ginestro Fiorentina e rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici. Sulla statale 679 Arezzo Battifolle, incidente circa 3 km prima dell'incrocio con la strada provinciale 21 in direzione Arezzo. Muoversi in Toscana Info, servizio e collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!